Il teatro Astra divide la città, le opposizioni chiedono alla sindaca Pavan di fermare ogni progetto. Oggi la giornata contro il consumo di suolo, ma San Lazzaro resta sempre sotto assedio. L'allarme del consorzio di Bonifica Brenta sul dissesto idrogeologico dovuto al consumo di suolo. Giornata di sciopero e protesta per medici e infermieri che denunciano lo stato della sanità pubblica. Il commosso Dio del Veneto a Giulia Cecchettin, Migliaia, in piazza a Padova. Accordo rinnovato a Colceresa per sostenere l'economia locale garantirà l'accesso al credito. Pedemontano e Padovano divise dal vuoto delle infrastrutture, ma qualcosa si muove in regione. Torna alla rubrica dei vostri presepi, tutta la magia del Natale nel Tg Bassano. Direte Veneta. Buonasera e benvenuti al Tg Bassano. Apriamo questa edizione con la situazione del teatro Astra. Abbiamo sentito i vari tira e molla, le varie situazioni che si sono create in questi ultimi mesi. Siamo partiti da qualche anno fa per andare alla ricerca di quello che era stato detto dall'amministrazione comunale. Sentiamo anche che cosa hanno detto le opposizioni. Non si può più aspettare una soluzione che non arriva. La soluzione è solo una, l'acquisto del bene da parte dell'amministrazione, con lo scopo di restituirlo nel più breve tempo possibile alla città. E poi, ancora, mi riservo di esplorare qualsiasi altro percorso utile a mettere in sicurezza il bene e a restituirlo ai bassanesi. Chi l'ha detto, l'ha detto o meglio l'ha scritto, la sindaca di Bassano Elena Pavan a poche ore dal crollo del tetto del teatro Astra. Parole che sono finite nero su bianco sui social e che restano più di due anni dopo ad alleggiare su una situazione che non è cambiata di una virgola. E quindi? Quindi Bassano è ancora senza un teatro, l'Astra è ancora là con il suo carico di nostalgia e i soldi promessi dall'amministrazione arriveranno sì, ma alla fine dei prossimi tre anni. E le minoranze insorgono. Vediamo un'amministrazione che mette in bilancio dei soldi che non ci sono per fare qualcosa che non si sa. Perché ancora non hanno scelto se proseguire sulla strada dell'Astra oppure immaginare una soluzione diversa per il teatro cittadino. Davvero è imbarazzante aver assistito a cinque anni di annunci, annunci, annunci ed essere adesso al punto di partenza. Le opposizioni hanno una richiesta per l'amministrazione Pavan e dicono sull'Astra fermatevi qui. Ormai la credibilità di questa amministrazione che continua a fare annunci continui su cose che poi non realizza e non realizzerà arriva anche proprio in zona Cesarini, in last minute, in cui si cerca di risolvere un problema annoso della città che doveva essere elemento di lavoro in questi anni che invece sono state solo chiacchiere e nulla di fatto. Credo che sia doveroso un atto di responsabilità nei confronti della città. Fermatevi qui, lasciate che sia la nuova amministrazione, qualunque essa sia, a prendere in mano il problema del teatro Astra e dare una risposta ai cittadini della città di Bassano del Grappa. La minoranza ricorda come molte altre situazioni in città, non ultima quella legata al progetto di Santa Chiara, abbiano vissuto cambi di visione e di ritmo da parte della giunta Pavan. Dopo essere andati a Braccetto per un paio d'anni con gli attuali proprietari dell'Astra pensando di portare a casa risultati così con pacche sulle spalle, abbiamo assistito al crollo del teatro e a un nulla di fatto. Adesso sappiamo che hanno chiesto agli uffici di dare un incarico per capire cosa si può fare rispetto al teatro. L'incarico è stato dato, quindi si sono spesi ulteriori soldi pubblici. Non c'è ancora la risposta, però il sindaco e l'assessore vanno in media a dire abbiamo la soluzione. Tutta questa cosa è l'ennesima presa in giro dei cittadini della città di Bassano e la mancanza, ancora una volta, la certificazione della mancanza di idee di questa amministrazione. Vi racconteremo ancora una volta come andrà a finire anche questa vicenda. Adesso cambiamo argomento. Oggi è la giornata mondiale del suolo. Quando si parla di consumo di suolo a Bassano si pensa direttamente a San Lazzaro. Oggi è la giornata mondiale del suolo. Un appuntamento di grande importanza varato dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del suolo e del rapporto fra l'uomo e l'ambiente. Parlare di suolo a Bassano vuol dire parlare di San Lazzaro e della lunga battaglia per salvaguardare l'ultimo lembo di campagna bassanese. Quel tratto di verde fra riva bianca e rambolina con la sponda della strada pedemontana da una parte e l'assedio della città dall'altra. Un fazzoletto di terra niente di più che però ha rappresentato negli ultimi mesi uno spartiacque nella città che ha interessato politica, cittadini, imprese. La storia è nota con un terzetto di aziende pronte a costruire un nuovo polo e con il domino innescato dal progetto di espansione della Baxi nell'ex IAR che avrebbe dovuto portare Pengo a creare un insediamento nuovo di zecca proprio a San Lazzaro. Quest'ultimo progetto è finito in Consiglio Comunale dove l'Assemblea ha decretato la bocciatura di fatto della proposta dell'amministrazione Pavan. Sono passati mesi da quei giorni ma sembra essere passata un'era. Eppure le campagne di San Lazzaro sono ancora lì, assediate e nessuno al momento sembra avere intenzione di porre un limite definitivo all'espansione industriale, logistica e produttiva in quel fazzoletto di verde. Eppure cittadini, associazioni di categorie e quartieri si sono già espressi in tal senso. L'ultima novità, clamorosa in ordine di tempo, sono le dimissioni del Consiglio di quartiere di San Lazzaro per protesta contro la posizione del Comune e la non comunicazione dell'amministrazione Pavan. Oggi però c'è la possibilità di ripensare a San Lazzaro e ai suoi campi nella giornata dedicata al suolo e nella regione che è fra le più voraci di suolo a livello nazionale. Quest'anno il tema della giornata internazionale è il legame fra suolo e acqua, risorse non rinnovabili e limitate. Esattamente come quel fazzoletto di terra fra riva bianca e rambolina che rischia di essere soffiato via dal vento di altri interessi. E il consumo di suolo è alla base anche di molte situazioni di dissesto idrogeologico. Sentite l'allarme del Consorzio di Bonifica Brenta. Il Consorzio Bonifica Brenta fa un lavoro che non si vede purtroppo. Non fa le piste ciclabiche, non fa le rotonde, non fa tanti tagli di nastri ma fa un lavoro immenso. Una figura da alcuni occhi invisibile, un guardiano instancabile del territorio. Un Consorzio, quello di Bonifica Brenta, che copre una superficie di quasi 80.000 ettari distribuiti in 54 comuni tra le province di Padova, Treviso e Vicenza, a cavallo quindi del fiume Brenta, dalla Pedomontana fino al Bacchiglione. Siamo orgogliosi di essere il primo Consorzio in Veneto che ha prodotto per la dodicesima volta il bilancio ambientale che è stato previsto dall'introduzione della legge 12 del 2009 della regione Veneto. Un bilancio ambientale, quello del 2022, che ha visto attuare diversi interventi con lo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e l'utilizzo dei terreni ad uso agricolo urbano, regolando le acque del territorio attraverso infrastrutture di competenza, canali, manufatti e impianti. Sotto l'aspetto dell'irrigazione basta pensare a quanti aziende agricole traggono beneficio dal fatto che il Consorzio sia dotato di un'irrigazione strutturata che porti nei singoli appassamenti l'acqua per quanto riguarda le culture. E quindi non rientra solo in questi termini, ma basta pensare anche a quante ville, quanti parchi che utilizzano l'acqua del Consorzio per la vivificazione dei loro parchi. Un bilancio che porta a galla anche problemi ambientali di grande attualità, come il dissesto idrogeologico dovuto all'inarrestabile consumo di suolo. Un territorio in cui è stato devastato per beneficio proprio dei miglioramenti anche di vita, ma quante opere sono state fatte per industriali, artigianali, commerciali, proprio residenziali che hanno sottratto il territorio che era una volta agricolo e che invece adesso è diventato di tutt'altra natura, senza però tener conto dell'evento acqua. Cioè si è pensato di chiudere i canali, di non creare le autostrade dell'acqua che servono proprio per allontanare l'acqua quando si sono in eccesso. Situazioni molto gravi che sono sotto gli occhi di tutti, che vediamo a ogni piovasco, a ogni pioggia importante su tutto il territorio e se ne sono accorti anche i cittadini. Oggi è la giornata del consumo di suolo. Servono queste giornate secondo lei? Sicuramente. Perché allora? Sì, perché bisogna avere un po' più di rispetto per la terra e quindi utilizzare in maniera più razionale. Sono importanti queste giornate o è solo demagogia? No, no, è importante, purtroppo, è tanto importante, tanto. Cosa la preoccupa in particolare? E i cambiamenti climatici, il terreno che viene sempre usato per costruire strade, case, sempre di più, sempre di più. La natura è un capitale, sì o no? Mi goccano tanto verde e basta. Io sono contrario alla cementificazione, assolutamente. Per me il verde è la vita. In Italia manca una legge da tanto tempo, sembra che siamo lì pronti a recepire la normativa europea e alla fine non si fa niente, è urgente. È urgente, è urgentissimo, è urgente. Basta guardare cosa succede nel mondo, in tutta Italia o all'estero. E guardando qui invece in zona marossica, anche l'ultimo maltempo abbiamo visto frenare giù parte delle colline. Beh, diciamo che siamo stati abbastanza fortunati nella zona. Comunque è a rischio anche a questa zona. Anche fa una legge che devono, diciamo, difendere il verde, difendere gli alberi. Senza gli alberi non abbiamo più niente. L'Amazzonia si sta distruggendo. Anche qui in Italia? Sì, abbiamo tantissimi posti che prima non c'erano alberi, adesso non c'è più niente. Basta vedere la storia di San Lazzaro con la storia che vogliono costruire sui campi. Lasciamo i campi dove sono. Questo è importante. A proposito, ci si chiede, ci chiediamo e ci chiedono che fine abbia fatto la legge sul consumo di suolo ferma nei cassetti del Consiglio regionale ormai da troppo tempo. Vedremo se prima o poi qualcuno ci risponderà. Cambiamo ora argomento. È stata la giornata dell'ultimo saluto a Giulia Cecchettin. Sono da poco trascorse le 10.30 quando la bara bianca coperta di rose esce dall'obitorio di Via Cornaro a Padova per essere caricata sul carro funebre e raggiungere la basilica di Santa Giustina. È all'obitorio che, con compostezza e un dolore che si può leggere nei volti, nei gesti, inizia il lungo addio della famiglia Cecchettin a Giulia. È ora di lasciarti andare, dirà poi papà Gino dal pulpito, quello che Filippo Turetta non è stato capace di fare. Dal mattino il Sagrato della Basilica e Prato della Valle sono andati via via riempendosi. Moltissimi gli studenti in una Padova che nella giornata di lutto regionale aveva sospeso le elezioni. Una dopo l'altra le corone di fiori del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di Camera e Senato. Nei banchi delle autorità il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Presidente del Veneto, Luca Zaia. Dietro a loro una schiera di sindaci con la fascia tricolore. Al suo arrivo il feretro è accolto da un applauso, un abbraccio che fa commuovere il papà di Giulia. Restano tutto il tempo stretti in primo banco Cecchettin con i figli Elena e Davide. Le mani intrecciate, il capo posato uno sull'altro. Il sorriso di Giulia ci mancherà perché il suo viso ci è divenuto caro, ha detto il Vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, nella sua omelia, invocando poi il Signore. Insegnaci, Signore, la pace tra generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Vogliamo imparare l'amore e vivere nel rispetto reciproco, cercando anzi il bene dell'altro nel dono di noi stessi. Non possiamo più consentire atti di soprafazione e di abuso. E poi l'unico passaggio esplicito riferito a chi Giulia l'ha uccisa. Chiediamo la pace del cuore anche per Filippo e la sua famiglia. Il nostro cuore cerca tenerezza, comprensione, affetto, amore. La pace del cuore è pace con se stessi, con il proprio corpo, con la propria psiche, con i propri sentimenti, soprattutto quelli che riguardano il senso delle azioni che compiamo e il senso della vita. In molti si avvicinano al banco dei cecchettini al momento di scambiarsi un segno di pace. Si fa avanti un uomo equilineamenti l'Italia ha imparato a conoscere nel 2021. È Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, uccisa da appena 15 anni. Anche lui ha perso sia la moglie, morta a luglio, che la figlia, e stringe il papà di Giulia in un abbraccio vigoroso. Il feretro viene benedetto, quindi ripercorre la navata verso l'uscita. Quando la bara scende la scalinata, gli applausi della piazza, dei 10.000 della piazza, si fanno rumore e chi c'è sfila dalla tasca, dalla borsa o dallo zaino un mazzo di chiavi, tutti insieme a farle tintinnare per lunghi, emozionanti minuti. Ci spostiamo a Venezia, dove oggi c'è stata una manifestazione di protesta di medici e infermieri per segnalare la situazione della sanità del Veneto. Un giorno di sciopero, un giorno in cui si ferma la sanità per non doverla fermare per sempre. La sanità si ferma oggi per non fermarsi per sempre. È un urlo d'allarme, una richiesta d'aiuto e un appello accorato alla politica, ma anche una chiamata ad una presa di coscienza collettiva dello stato di crisi in cui versa la sanità pubblica, quello che si leva da medici e infermieri veneti. Dalla ULSS 7 Pedemontana, la ULSS 3 Serenissima, da Padova a Treviso, dalle montagne bellunesi alle pianure rodigine, un intero settore si mobilita per far sentire la propria voce, manifestando a Venezia davanti al palazzo Grandi Stazioni della Regione per poi spostarsi in prefettura. Il rispetto degli infermieri passa attraverso il rispetto economico, il rispetto normativo, il rispetto nella sicurezza dei luoghi di lavoro, dato che le aggressioni sono sempre più frequenti e sempre più importanti. Le sempre più frequenti aggressioni in corsia o al pronto soccorso sono causate, secondo infermieri e medici, anche dall'ansia e dall'esasperazione di pazienti che si sentono lasciati in balia di se stessi, trascurati da un personale sanitario che invece sta facendo i salti mortali per colmare le carenze di organico. Lo stipendio mediamente è sui 1.500-1.600 di stipendio, anche se si riesce a guadagnare facendo purtroppo un lavoro in più, che comunque noi la chiamiamo un lavoro di spremitura ulteriore del lavoro, quali lo straordinario, sono molto tassati, per cui lo stipendio rimane sempre basso. Secondo le prime stime, lo sciopero di medici e infermieri si attesterebbe in media attorno al 70%. Frustrazione e delusione sono fortissimi in entrambe le categorie. Promesse vane, mai mantenute, carenza di personale, carenza di risorse economiche, tagli sulle pensioni, il personale che se ne va perché trova molto meglio lavorare nel privato. Noi continuiamo a lavorare e teniamo duro per il momento, ma siamo sempre più in difficoltà e questa la gente la deve sapere. Parliamo di economia, parliamo di produzione, perché i piccoli comuni aiutano le imprese. A sostenere la ripresa economica delle attività del territorio, anche i comuni giocano la loro parte per quanto riguarda l'accesso al credito a condizioni agevolate. Col Ceresa, primo tra i comuni del Bassanese, rinnova l'accordo con Fidi Imprese e le banche del territorio, sottoscrivendo un protocollo d'intesa rivolto soprattutto alle microimprese più in difficoltà. Un accordo nato dopo la pandemia, che con questo ulteriore rinnovo per il prossimo anno intende rispondere alle richieste dei cittadini. Sicuramente per quanto riguarda le attrezzature anche all'interno delle attrezzature produttive, ma anche potrebbe essere una risposta per ad esempio la riqualificazione energetica o altri aspetti che comunque sono importanti per l'attività svolta. In un periodo di alti tassi e aumento dei costi delle materie prime, contenere la spesa per gli investimenti significa dare ossigeno all'economia locale del comune con l'accesso al credito fino a 25.000 euro a tassi più vantaggiosi rispetto al mercato. Attualmente viene applicato il tasso fisso di periodo più un 1,10 con 100 euro di spese pratica, quindi un costo molto ridotto rispetto a quelli che sono i tassi in questo momento che si aggirano oltre il 6% ma anche molto più alti. Vediamo ora tutte le altre notizie dal territorio. A Bassano il comune ha approvato il progetto di lavori di allargamento di contraffietto. necessari per il nuovo percorso ciclopedonale fra Campese e lo svincolo della Valsugana. I lavori costeranno 110.000 euro. All'Useana Conco torna l'appuntamento con il tradizionale Canto della Stella, con la banda cittadina che ogni settimana porterà nelle contrade casa per casa le canzoni di Natale e la gioia dell'attesa della festa. C'è un buco infrastrutturale fra Alta Padovana e Pedemontana. Guardando la cartina del Veneto centrale si possono notare due nuclei molto importanti. A sud c'è Padova, a nord c'è il Bassanese con la Pedemontana e il suo carico immenso di siti produttivi e spostamenti. In mezzo c'è l'Alta Padovana con alcuni collegamenti viari che sono stati pensati molti anni fa e che oggi non sono più all'altezza della situazione. Noi abbiamo sostanzialmente due strade che collegano da nord a sud Padova con il Bassanese che passano per l'Alta Padovana e sono assolutamente non funzionali, inadeguate, devono essere realizzate degli interventi strutturali che le velocizzino per avere un collegamento diretto con Bassano e la zona nord del Veneto, per intenderci con l'autostrada Pedemontana, che sia funzionale poi al traffico e poi non solo al traffico di mezzi leggeri ma anche di mezzi pesanti, altrimenti l'Alta Padovana e la città di Padova si trovano praticamente isolati rispetto al Bassanese. La strada Pedemontana-Veneta diventa uno sbocco imprescindibile per Padova e per l'Alta Padovana, ma in queste condizioni è difficile che i collegamenti siano fluidi. Ne sanno qualcosa i residenti e le attività produttive che insistono sulla Val Sugana, come Cittadella e Rosà. Questa nuova infrastruttura pedemontana che sta prendendo sempre più piede e con il collegamento definitivo a Montecchio Maggiore diverrà una strada di assoluta importanza. Cosa si può fare quindi in questo momento? Ci sono delle idee sulla 308, quindi c'è lo studio di fattibilità che è stato realizzato dalla Regione in questi ultimi mesi che si sta presentando ai sindaci, alle categorie economiche, e quindi ci sarà un dibattito sulla 308. Faremo la stessa cosa anche per quel che riguarda la Val Sugana, dove appunto stiamo innestando il problema, si sa, si conosce da molti anni. Adesso cerchiamo di andare verso delle soluzioni che siano condivise, ma che abbiano l'obiettivo di rendere funzionale questa arteria e di velocizzarla, diciamo, perlomeno nel tratto da Padova a Cittadella e poi fino a Bassano. Sta arrivando Natale e torna la rubrica con i vostri presepi, potete mandarci un video, una foto possibilmente orizzontale del vostro presepi, numero 340-321-8379 o alla mail Bassano-chiocciola-rete-veneta.it, li faremo vedere tutti da qui alla fine delle feste. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che questa sera il nostro direttore Luigi Bacciali avrà ospiti, una puntata decisamente interessante di Focus, Andrea Bolzonello, Enel Adonazzana, Giuseppe Mauro, Patrizio Miatello, Vivian Moro, Giuseppe Pan e Francesca Zaccariotto. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata, vi lasciamo al meglio.